tecnica mac1 lv115v questo scarpone è stato progettato per sciatrici all mountain esperte con una pianta del piede stretta la principale novità è la tecnologia t drive un connettore scafo gambetto che cambia radicalmente la prestazione dello scarpone da sci offre un flex fluido e progressivo l'eventuale customizzazione è garantita dal sistema c as custom adapted shape ha una vestibilità anatomica con una pianta di 98 millimetri faccio una montata di pianta a metterlo fatto un pelino fatica perché rialzare un po la linguetta però dopo una volta l'ho messo veramente comodo che avvolge super bene il piede e il talone mi rimane fermo e allo stesso tempo molto molto comodo ci ho camminato anche e pure se comunque la stretta un pochino dura e camminavo facilmente davvero comodo nel toglierlo anche facilissimo quindi non vedo l'ora di provarla domani molto confrittevole soprattutto per chi come me è una pianta un po più larga molto comoda in entrata e in uscita e giusta pressione su tutto il piede anche sul gambaletto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti